Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, andiamo subito a Cortona dove è scoppiato un caso a causa di un video diventato virale che aveva ripreso una persona mentre consumava della droga sulle scalinate del teatro Signorelli. No, 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 no. No, no, no. Cortona perché è una città di arte, cultura, storia, del buon vivere. È una città dove si vive veramente bene e alcuni personaggi non possono infangare il nome della nostra cittadina. Ledendo l'onore anche delle istituzioni perché evidentemente questi atteggiamenti ledono anche il nostro onore. Quindi chiedo pubblicamente, visto che in giro tutti parlano di sostanze, di giri e di raggiri, io chiedo pubblicamente alle istituzioni un massiccio intervento perché non possiamo più tollerare né lo spaccio né il consumo pubblico come viene fatto senza nessun problema e alla faccia di tutti. Quindi scusate lo sfogo ma Cortona non è questo. Cortona è bellezza, è arte e cultura e noi la difenderemo a tutti i costi. Un grave incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Badia Agnano nel comune di Bucine, dunque nel Valdarno a Retino. Ancora i contorni non sono chiari di quanto accaduto ma di fatto un uomo di 60 anni ha riportato ustioni di primo e secondo grado sul 30% del corpo. Sul posto i sanitari del 118, l'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa con il Pegaso. Sul posto la misericordia di loro ciuffenna, un'automedica dall'ospedale della Gruccia del Valdarno, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. 12 pecore sbranate, 2 disperse, questo il bilancio dell'ennesimo attacco dei lupi subito da un allevatore di Ascione a Terranova Bracciolini e Giglio Marcia. Un attacco che è l'ultimo di una lunga serie, afferma l'allevatore, sono disperato. Il mio greggio negli ultimi anni è stato più che decimato, superano le 100 unità, appunto i capi che ho perso a causa delle aggressioni da parte dei lupi. Marcia poi si dice preoccupato anche per la sicurezza personale e dei propri familiari perché l'allevamento si trova proprio nei pressi della sua abitazione. Adesso invece parliamo del controesodo in atto in questo fine settimana. Il giorno più caldo sarà domenica e quindi anche quello più intenso sotto il profilo del traffico. Poi allora sentiamo i consigli da parte del 118. Un weekend da bollino rosso, quello in corso, segnato dalla fine delle vacanze e dai rientri a casa per la riapertura della gran parte delle attività lavorative per il territorio aritino e ancora in vigore uno speciale piano per le maxi emergenze voluto dalla centrale 118 nelle principali arterie di comunicazione. Il tratto A1 che è il nostro tratto di competenza va dal casello Valdichiana al casello di Incisa Valdarno per un complessivo circa 65 chilometri di autostrada nelle due direzioni, quindi se andiamo a moltiplicarlo arriviamo oltre 130 chilometri. Poi l'Ai45 che nella nostra zona è usata tantissimo per recarsi nelle zone di vacanze dell'Adriatico e poi anche sulla Perugia Bettolle che comunque interessa un tratto anche della nostra provincia. Ecco, chi sarà presente e soprattutto quanti uomini, quanto personale sarà impiegato? Più che l'incremento del numero di personale che comunque c'è il gruppo Maxi Emergenze che ha in pronta disponibilità a dare supporto alle persone, agli operatori che già sono in turno ma si tratta di un ricollocamento delle risorse in caso di evento. Ad esempio, in caso di incidente in autostrada, oltre all'invio dei classici mezzi di soccorso per soccorrere le persone infortunate nell'evento, vengono avvicinate ai caselli interessati, quindi a monte e a valle dell'evento stesso, delle ambulanze. Questo per dare supporto anche alle persone che rimangono in coda, perché essendo giornate da bollino rossi, da bollino nero, in pochissimo tempo si possono accumulare code di diversi chilometri. Quindi è nostro dovere anche prendere in carico queste persone che rimangono bloccate e al cui interno dei mezzi ci sono famiglie con bambini, persone anziane, cardiopatici e quant'altro. Quindi questo è il nostro compito e le ambulanze avvicinate ai caselli danno sia un punto di riferimento alle persone che hanno difficoltà ad entrare in autostrada ma anche a quelle che già sono in autostrada, che eventualmente abbiamo la possibilità di dare una risposta in minor tempo. E sempre dal 118 arrivano preziosi consigli per chi deve mettersi in viaggio. Di portare sempre con sé in macchina quando affrontiamo dei viaggi l'acqua. L'acqua non importa che sia calda, che sia a temperatura ambiente, non importa, ma rintegrare i liquidi che perdiamo è una cosa importantissima e fondamentale. Non bere, non fare uso di sostanze alcoliche perché questi oltre che a diminuire i tempi di reazione e la lucidità già compromessa per le alte temperature aumentano anche la sudorazione stessa. E quando possibile, in caso di coda, quando possibile fermarsi nelle aree di sosta anche per pochi minuti o nelle aree di servizio per appunto staccare un attimo la spina, rigenerarsi e per poi ripartire più freschi e più concentrati per il proseguo del tragitto. Un'ultima cosa l'aggiungo io, spesso e volentieri ci sono dei microtamponamenti proprio nelle vicinanze, addirittura anche nella corsia opposta di un incidente perché, lo dobbiamo dire, ci sono anche i curiosi. Sì, spesso i microtamponamenti, infatti quando ho detto che avviciniamo ambulanze a monte e a valle dell'incidente è proprio per questo perché spesso i microtamponamenti si verificano anche a causa di rallentamenti per curiosi nella corsia opposta a quella dell'incidente principale e questo va ancora di più ad sovraccaricare il traffico del tratto autostradale e il nostro lavoro è quello della polizia stradale, dei vigili del fuoco e di tutti gli altri enti. Una nuova sanzione a carico di Facile Energy, l'autorità garante per la protezione dei dati personali annuncia Chiara Rubbiani, presidente di Feder Consumatori, ci ha comunicato che a seguito proprio delle nostre segnalazioni ha combinato una nuova sanzione a Facile Energy. Questa sanzione si aggiunge a quella già combinata a dicembre 2023, sempre a seguito di altre segnalazioni da parte di Feder Consumatori a Rezzo. La nuova sanzione è stata combinata perché questa società, perseverando in comportamenti scorretti, aveva continuato a procacciarsi contratti di fornitura con metodi, dice la presidente di Feder Consumatori, scorretti e proprio su questo domani avremo un approfondimento nel nostro telegiornale. Con il prossimo servizio invece parliamo di ben altro, si parla di un reato, di truffa, di questo appunto potrebbero essere vittima alcuni giovani che ricevono questo messaggio. Ciao, mi dispiace disturbarla, posso avere un po' del tuo tempo? È il nuovo messaggio truffa che da alcuni giorni, secondo quanto emerge dall'allert lanciato dalla polizia postale, sta girando sulle applicazioni di messaggistica istantanea, che, spiega proprio la polizia, rappresentano sempre di più il veicolo preferito dai cybercriminali per addescare giovani in cerca di lavoro che non richiedano competenze specifiche e possano essere svolti comodamente da casa. Il target, quindi, adesso è cambiato, dagli anziani ai giovani che usano i social. La polizia postale spiega che, rispondendo a questo messaggio dall'altra parte, ci sarà chi tenterà di invogliare la vittima ad accettare un'allettante proposta di lavoro. La richiesta che arriva all'utente è semplice, vedere alcuni video, mettere mi piace e inviare come prova gli screenshot dell'attività svolta. In realtà si tratta di una truffa, resa credibile dai primi pagamenti che conquistano la fiducia dell'utente. La vittima del raggiro sarà successivamente indotta a versare una somma di denaro, con la scusa di sbloccare i guadagni conseguiti o di frequentare corsi di formazione, e in altri casi a fornire dati personali e bancari per redigere falsi contratti di lavoro. La polizia postale consiglia quindi di non rispondere, bloccare i messaggi ricevuti da mittenti sconosciuti e non aprire link che possono compromettere il dispositivo. Quasi 10 milioni di euro per un'opera di cui non si vede la fine, che a conti fatti ancora non si capisce se i benefici supereranno i tanti disagi creati ai cittadini della zona. L'intervento sulla rotatoria di via Fiorentina ad Arezzo del gruppo consigliare Scelgo Arezzo. Abbiamo chiesto più volte, dice Marco Donati, alla Giunta Comunale, di fermarsi e riflettere sulla rotatoria di via Fiorentina, un progetto che drena risorse importanti, sottraendola agli interventi strutturali su strade, scuole, efficientamento energetico degli immobili e frazioni. Siamo alla ripartenza, in questo caso, anche dell'attività sportiva e allora c'è un importante servizio, in questo senso, offerto dalle farmacie comunali. Un servizio efficiente è davvero molto utile, quello offerto dalle farmacie comunali di Arezzo. È infatti possibile effettuare un elettrocardiogramma. In questo periodo sono molti gli sportivi di ogni età che ne fanno richiesta all'interno delle farmacie stesse. Siamo andati alla farmacia comunale della zona Giotto ad Arezzo per capire come poter usufruire di questo servizio. Le farmacie comunali sono a disposizione dei cittadini con quella che è la farmacia dei servizi, per cui col servizio dell'elettrocardiogramma. E questo è importante perché con la ripresa delle attività sportive sia per gli adulti che per i bambini è necessario l'elettrocardiogramma. Noi lo facciamo fisso in quattro farmacie, per cui è disponibile alla comunale numero 1 Campo Marte, alla numero 2 che è in Via Colombo, alla numero 3 che è questa in Piazza Giotto e alla numero 4 in Via Fiorentina. Poi in questo momento è disponibile anche a San Giuliano e a San Leo. Per prenotare l'elettrocardiogramma non è necessario prendere appuntamento, è basta una telefonata, e in genere siamo disponibili a farlo anche nell'immediato. Per effettuare questo esame c'è un personale specializzato? Sì, tutto il personale laureato, cioè solo i farmacisti fanno l'elettrocardiogramma. Nella nostra farmacia siamo tanti, per cui ce n'è sempre uno o due a disposizione per poterli fare. Un modo anche per scorciare un po' le code, che immagino ci saranno, ci possano essere, comunque sia scorciare i tempi, avere un servizio più alla portata del cittadino, che deve, ovviamente puoi fare una visita medico-sportiva. Certo, e guardi, il nostro servizio è decisamente abbastanza efficiente. Nel giro di un quarto d'ora, venti minuti al massimo, diamo la rifertazione, ed è capitato di avere anche persone che avevano problemi cardiaci, immediatamente veniamo allertati dal centro di rifertazione che c'è qualcosa che non va, e di contattare immediatamente il paziente che si mette in contatto con la struttura adeguata. Per cui facciamo anche questo servizio di monitoraggio. Quindi dopo la prenotazione uno si presenta nella farmacia, effettua l'esame e ha subito, o perlomeno insomma nei tempi tecnici, il risultato? Sì, nel giro di un quarto d'ora, venti minuti, abbiamo la rifertazione. E se c'è qualcosa che non va, immediatamente veniamo contattati. Stop ai tavoli all'aperto, sulle strade del centro storico, venderdì e sabato della prossima settimana. Sono infatti sospese nei giorni di 30 e 31 agosto appunto le disposizioni che regolano l'occupazione degli spazi pubblici da parte degli esercizi e delle attività del settore, in occasione della prova generale della giostra del Saracino e delle cerimonie di investitura e bollatura dei cavalli. Sempre in tema di giostra, proprio domani presso il Palazzo Comunale, la consueta presentazione della lancia d'oro, e il trofeo che si contenderanno i quattro quartieri e poi domenica 25 alle 11 in Piazza della Libertà, la cerimonia della estrazione delle carriere. Pensiamo però anche a un'altra manifestazione che non è poi così lontana nel tempo, ovvero la città del Natale. Sono state ufficializzate le date. È ufficiale la data di avvio dei mercatini di Natale che torneranno in Piazza Grande ad Arezzo dal sabato 16 novembre. Si tratta della nona edizione del villaggio tirolese, alla soglia dunque di un importante compleanno, una iniziativa che tutti gli anni, assieme alla città del Natale, attrae ad Arezzo migliaia di visitatori. I mercatini si chiuderanno il 29 dicembre, poco prima del Capodanno. Tra le novità del Natale 2024, quella legata a Babbo Natale. La casa più visitata di tutte si trasferisce dal Palazzo di Fraternita alla Fortezza Medicea. Un'area rinnovata e fantastica dove Babbo Natale e i suoi elfi attenderanno grandi e piccini per un percorso incantato che rimarrà aperto fino al 24 dicembre. Le altre iniziative andranno avanti fino al 6 di gennaio. Un'altra novità sarà nei pressi dei resti dell'antica chiesa di San Donato dove i visitatori potranno accedere ad un nuovissimo planetario che permette di scoprire i segreti del cosmo. E ancora il villaggio di Natale in miniatura meccanizzato tra i più grandi del centro Italia. Si avvicina il giorno di Simone, Cristicchi e Amara. Lunedì prossimo 26 agosto alle 21.30 i due artisti saranno a San Giovanni e Valdarno per il concerto mistico per Battiato. Torneremo ancora a un viaggio musicale, alla ricerca dell'essenza nella confusione della modernità. Sul palco accompagneranno i due artisti il maestro Walter Silviotti al piano e i solisti dell'Accademia Nanois di Pordenone. Siamo allo sport. Oggi una lunga conferenza stampa presso lo stadio di Arezzo per presentare le nuove maglie. Era presente il presidente Guglielmo Manzo e anche la figlia che tra l'altro le ha disegnate e poi per parlare ovviamente anche di mercato e del nuovo stadio. Sentiamo. Chi mi conosce sa che io sono estremamente religioso. Sono una persona che è devoto in maniera pazzesca a San Pio e come spiegare l'immagine della Madonna sulle nostre magliette? Ho pensato, ho parlato con mia figlia, mi sono consultato e ho detto ma qual è uno dei simboli più importanti ad Arezzo? Poi Don Alvaro mi ha illuminato perché mi ha raccontato tutto quello del discorso legato alla Madonna del Conforto e ho detto beh, allora credo che sia giusto che sulla nostra prima maglia mettiamo l'immagine della Madonna del Conforto. Se ero ateo probabilmente c'era la foto di Maradona sulla maglia essendo tifoso del Napoli quindi è una scelta di vita e spero che tutti la vedano in questo modo. Tutto là. E poi è bella, 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 bella quando le cose sono belle bisogna apprezzarle anche per il gusto e la bellezza anche se uno non è religioso deve apprezzarle per il gusto e la bellezza delle maglie. Il presidente dell'Arezzo Guglielmo Manzo risponde così a tutti coloro che in questi giorni hanno criticato la scelta di apporre l'immagine della Madonna del Conforto sulla prima maglia della squadra critiche più che altro legate all'aspetto un po' ridondante dell'immagine sacra. Basta spiegare le cose io ho sempre detto quando l'ho spiegato al Vesco ci sono voluti tre secondi e ha detto ok va bene ovviamente poi ognuno di noi ha modo di vedere e interpretare le situazioni. La prima società che inserisce? Che io sappia sì che io sappia sì però non ne sono certo sicuramente in Italia è la prima se non in Europa e siamo orgogliosi anche di questo ma soprattutto siamo orgogliosi di come sta reagendo la città io sono dieci giorni che sono qui ad Arezzo e giro passeggiate e non ho avuto un commento negativo da parte dei nostri tifosi che è la cosa che mi interessa più di tutti. Archiviato l'elemento maglie ora si pensa al campionato in molti attendono gli ultimi colpi di mercato di cui l'Arezzo ha bisogno. Assolutamente sì abbiamo il direttore che sta lavorando su questo come ripeto noi stiamo costruendo una squadra come tutte le società sportive a meno credo con il giusto metodo di valutazione non possiamo e non ci permetteremo mai di fare dei colpi dove poi l'anno dopo siamo a raccattare i soldi per poter fare la stagione questo ad Arezzo finché ci sarò io qui non succederà mai si faranno le cose con i soldi che ha in tasca. E a settembre forse la presentazione ufficiale del progetto per il nuovo stadio. Il progetto stadio ha detto chiederemo un incontro al sindaco e poi protocolliamo o forse il contrario. Ora io ho detto così però presumibilmente la mattina protocolleremo e poi faremo l'incontro la conferenza stampa perché credo che sia anche corretto fare in questo modo. Era però per dire un progetto così importante che presumo diventerà il progetto più importante per i prossimi anni ad Arezzo di costruzione è giusto che gli venga data la giusta come si dice valenza quindi voglio concordarlo bene sia col sindaco che con l'assessore e poi presenteremo il tutto. Oggi ad Arezzo si sente a casa? Io veramente mi sono sempre sentito a casa quando l'abbiamo comprata abbiamo avuto un po' più di difficoltà ci sono stati un po' più di problemi c'è stato qualche litigio ma c'è stato anche tanto affetto che ci è stato dato sicuramente oggi meglio più sereno e soprattutto più consapevole di dove siamo perché quando arrivi in una città anche se la conosci anche se l'hai vissuta da turista o da militare come me non la capisci bene finché non ci vivi ora io sono dieci giorni sono ad Arezzo io sto facendo le mie vacanze ufficialmente ad Arezzo che non sono vacanze perché tecnicamente Nello mi ha stoccherizzato tutti i dieci giorni ci siamo abbandonati un attimo e non solo lui però vivendo la città ti rendi conto sempre di più quanto ci sto bene quindi non escludo che un domani se le cose vanno come dico io ci potremo trasferire un pochino ad Arezzo Il tennis Giotto Arezzo si appresta a vivere una stagione davvero importante nella massima serie sentiamo I colori amaranto del tennis insomma affronteranno una bella avventura sia maschile che femminile A ottobre cominceranno per nel primo anno nella storia del nostro circolo ma anche della nostra città due competizioni della massima serie A2 maschi e femmine quindi tutte le domeniche fino a dicembre nel nostro circolo avremo o i ragazzi o le ragazze quindi sarà un autunno molto pieno ma anche il settembre si presenta bene perché fra due settimane ci saranno le finali di macro area per accedere alle finalize cioè le otto migliori squadre giovanili under 16 ma anche gli under 14 parteciperanno fuori dalla città in questo caso per accedere alla finale nazionale per aggiudicarsi lo scudetto tricolero a cui noi puntiamo soprattutto con la nostra squadra con la nostra competizione perché secondo me il fatto che noi siamo in competizione per lo scudetto anche su queste squadre significa che abbiamo un vivaio che come dire è il serbatoio fondamentale delle nostre prime squadre noi puntiamo sul vivaio per poi essere competitivi nelle prime squadre essere in serie A2 con il nocciolo duro che è composto dai nostri ragazzi che sono vissuti hanno il nostro DNA cresciuti da noi per noi è un grande orgoglio è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortesia attenzione e arrivederci